L'ASL, Dipartimento di Prevenzione, mi ha comunicato di aver riscontrato nelle ultime 24 ore 6 nuovi casi di positività al Covid-19. Queste le dichiarazioni del Sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Nel contempo ci sono state 16 guarigioni, il totale di positivi attuali è quindi di 6. Continua il Sindaco. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate sono 29.587, mentre sono 15.533 le prime dosi inoculate, con la percentuale che sale al 79%. Hanno completato il ciclo vaccinale il 72% dei residenti. Il centro vaccinale Città di Agropoli sarà aperto con nuovi open day per la somministrazione di prime e seconde dosi il 12, 16, 19, 23, 26, 30 novembre dalle ore 15 alle ore 19. Potranno sottoporsi al vaccino tutte le persone aventi requisiti senza necessità di prenotazione. Bisognerà però presentarsi muniti di tessera sanitaria. Nelle prossime settimane verranno organizzate anche altre giornate per la vaccinazione senza prenotazione.